Dal 3 al 5 maggio appuntamento in Piemonte per la seconda edizione del Festival della TV e dei nuovi media di Dogliani. A pochi giorni dall'inizio del secondo mandato presidenziale di Giorgio Napolitano, il primo nella storia del paese, sarà infatti la città natale di colui che fu invece il primo presidente della Repubblica Italiana, Luigi Einaudi, ad ospitare tre giorni di dibattiti e incontri sul futuro della TV e dei nuovi media. Apriremo venerdì con proprio il dibattito principale che è quello sul futuro della TV con il direttore generale della RAI, l'amministratore delegato di Sky Italia e l'amministratore delegato di YouTube, ma subito dopo avremo un faccia a faccia con Giovanni Minoli e Matteo Renzi. Perché questo? Perché questa edizione arriva dopo un periodo di grandi elezioni politiche e quindi noi cercheremo di parlare e anche di capire come le elezioni politiche sono state una sorta di laboratorio di comunicazione. Non solo le elezioni politiche italiane ma anche quelle americane, il conclave e quelle per il nuovo presidente della Repubblica Italiana. Informazione ma anche una riflessione sul mondo dell'intrattenimento in compagnia di Pippo Baudo, Luciano Littizzetto, Geppi Cucciari, Piero Chiambretti e tanti altri volti noti della TV. Piero Chiambretti la TV la fa ma la guarda? Beh è una vecchia battuta mia che poi è diventato uno slogan di tanti e io la faccio per non guardarla. Adesso ultimamente la faccio di meno e quindi la guardo di più. E devo dire che sta attraversando un momento complicato però ce la farà come sempre. Oggi ci sono 900 canali, più ci sono le pay tv, l'on demand, i telecomandi a distanza. Io ho un telecomando che quando schiaccia anziché accendersi il televisore si spegne il boiler. Però è chiaro che i tempi corrono, il futuro e dice come sarà il futuro? Il futuro è questo, un gran casino. Tre giorni per aprire la mente e guardare la comunicazione del futuro ma anche per godere dell'ospitalità delle splendide colline piemontesi candidate a patrimonio UNESCO, patria del buon cibo e del buon vino, a cominciare naturalmente dal dolcetto di Dogliani. In particolare qua si parla di televisione ma non solo, qua si parla anche di attualità, si parla di problemi del nostro paese, lo si fa con personaggi assolutamente di spicco internazionale e lo si fa davanti a un buon bicchiere di un vino piemontese, in questo caso del dolcetto di Dogliani, in un ambiente bello, in un ambiente accogliente e soprattutto a pochi passi dal luogo in cui riposa Luigi Inaudi. E credo, soprattutto oggi, che la figura di Luigi Inaudi debba essere una di quelle figure che col proprio esempio, con la propria vita e col proprio insegnamento segnino la via che è opportuno, che soprattutto le nuove generazioni vogliono seguire.